Stavano cercando di prelevare denaro contante da uno sportello Bancomat con una carta di credito appena rubata, ma un carabiniere fuori servizio ha cortosi dei movimenti di due uomini all'esterno di una banca di Molfetta, ha allertato la centrale operativa. Una pattuglia giunta sul posto ha bloccato la copia di malviventi, si tratta di due pregiudicati baresi di 20 e 50 anni. Secondo quanto ha preso il furto del portafogli con all'interno la carta di credito, era avvenuto poco prima i danni di un camionista nella zona industriale di Molfetta. In una seconda operazione militare hanno arrestato altre tre persone con l'accusa di furto aggravato, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ieri mattina alle 7.30 i tre sono entrati in una pescheria e con la scusa di acquistare delle cozze in un momento di distrazione del proprietario. Si sono impossessati delle chiavi del furgoncino utilizzato per il trasporto del pesce e si sono dati alla fuga. Una pattuglia dei carabinieri ha intercettato il fiorino per le vie della città. È nato un pericoloso inseguimento per le strade del paese durante il quale i malviventi hanno imboccato vie contro mano zigzagando tra le auto e i pedoni. La corsa è terminata in corso Umberto dove l'auto ha centrato in pieno una fioriera. Per i tre pressunti ladri sono così scattate le manette si sono aperte le porte del carcere di Trani.